Friccio al fluoro presenta Virna Lisi, la bocca della verità. Signora Lisi? Sì? Senta, due parole. No, no, niente sulla pittura, per favore, non me ne intendo, per questo lascio parlare i critici. Ah, beh, allora qualche domanda sulla bellezza eternata dagli artisti, cantata dai poeti. C'è chi per una bella donna si è tolto la vita? Oh, beh, non per niente la bella donna è un mortale veleno. Ma è anche un formidabile medicamento. Mi creda, ha preso a dosi molto, ma molto piccole. Lei ci scherza su perché è una bella donna, ma se lo fosse un po' meno, se fosse addirittura bruttina. Mi sarei consolata pensando che le donne brutte invecchiano meglio delle belle donne, e se infatti passano dall'ombra all'oscurità. Cosa crede che pensino le donne brutte delle donne belle? Sa come sono le donne, o non pensano a nulla o pensano completamente a un'altra cosa. Per favore risponda. Ma che cosa vuole che le dica, scusi? Sì, le donne brutte quando esiste una bella donna non la vedono neanche. Davvero? Mi spiego, non è che non la vedano. Diciamo che non la possono vedere, ecco. Insomma, secondo lei essere brutte è un bel malanno. Eh, sì. La bruttezza è un malanno che forma l'infelicità di una donna. Ma la gioia di tutte le altre. Signora Lisi, cosa dice? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Sempre Clorodont. Sì, Clorodont. Oggi più che mai. Perché è Clorodont, il primo dentifricio al fluoro garantito con un certificato di università. Ogni volta che usate Clorodont, fluoro. Voi date ai vostri denti la dose ottima di fluoro. Fluoro. Che vi assicura denti bellissimi in una bocca fresca e sana.